Allora eccoci qui ragazzi Sempre in compagnia di Lorix come sempre Bella Siamo con il secondo episodio della Speed Battle Ed oggi andremo a confrontare la Zentorno Con La Progen T20 Pronto a fare il culo alla Progen T20 Vediamo chi è più veloce Tu parti un po' in vento Vai Zentorno vai Zentorno Vai Zentorno a Galaprogen è davvero molto vicino Quasi mi supera la Galaprogen Te sei sempre più vicina Sempre più vicina alla Progen Sempre più vicina alla Progen Sempre più vicina Attenzione mi supera la Progen Eh ormai è andata Ormai è andata Nello scatto non rende tanto La Progen però nell'accelerazione E nelle curve E nelle curve è una cosa bestiale La Zentorno che poi ha anche poca stabilità Quindi figuriamoci Raga per me Onnettamente Più veloce la Progen T20 Poi non so per Lorix Si si Lo stesso La propria straccia E beh raga ci racchiappiamo con la seconda Speed Battle Allora raga eccoci qui con la seconda Speed Battle Stavolta metteremo a confronto L'Infernus e la vacca Blu così ci sta Io metto pronto a giocare Lorix sei pronto? Si Ok Pensavo fossi morto però Dettagli No no mi ero concentrato a Cambiare il colore dell'aria L'Infernus è cattivissima Allora l'Infernus per ora è nettamente avanti Ma l'Infernus è più veloce Si raga L'ho quasi proprio fumato A meno che Non mi impappino io nella curva Però All'accelerazione Già da come vedo Ecco Già mi stavo impappinando nella curva Già da come vedo raga L'Infernus è più veloce Si 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 La vacca Che tenta disperatamente di recuperare Non ce la fa Ma non ce la fa E me la so vicine Non ce la farà mai Vincitore di questa speed battle L'Infernus Vabbè raga Per questo episodio Secondo episodio della speed battle Può bastare Un saluto da Canzo Un saluto da Lorix Bella Noi ci rivediamo Alla prossima speed battle Alla prossima speed battle Grazie.